Mercedes-Benz presenta la EQC, questo il nome del primo modello elettrico di serie del brand tedesco. Si tratta di un SUV ed è il capostipite di una serie che comprenderà solo vetture ad emissioni zero. La trazione elettrica avrà un ruolo di primo piano nella mobilità del futuro, ha detto il numero uno di Daimler Dieter Zech durante la presentazione. Il CEO ha comunicato che Mercedes ha investito più di 10 miliardi di euro per l'espansione della gamma EQ e più di un miliardo nella produzione di batterie. Prezzo di listino solamente si fa per dire 100.000 euro e sarà in commercio a metà del prossimo anno.